Carta e plastica, un importante investimento quello fatto da Sogepu qui a Monte Castelli nel comune di Umbertide. Qual è la grande novità? Sì, un investimento molto importante per Sogepu, circa 700 mila euro che hanno portato all'acquisto dell'impianto Ecocassia nella frazione di Monte Castelli comune di Umbertide. Qui viene trattata carta e plastica, l'impianto è autorizzato nella forma semplificata ed è praticamente legato al consorzio Corepla e già da oggi sta trattando la plastica dei comuni dell'Alto Tevere. Questo è un investimento che consentirà a Sogepu non solo di rendersi autonoma per il trattamento della carta e della plastica, ma consentirà anche di ampliare la gamma dei servizi offerti alle aziende del territorio. Un importantissimo passo in avanti, ricordiamo che circa due anni fa abbiamo realizzato l'impianto integrato per il trattamento dell'indifferenzato e dell'organico di Bella Danza. Oggi andiamo a completare la gamma impiantistica dell'azienda appunto con questa nuova acquisizione. Siamo appena entrati perché abbiamo concluso l'iniziativa la settimana scorsa, quindi stiamo prendendo possesso dell'impianto e abbiamo sicuramente la voglia e anche l'aspirazione di farlo crescere offrendo servizio alle aziende del territorio e portando nuova linf e nuove risorse all'interno di Sogepu.